Se voi volete patentare il sindaco, sicuramente io e il sindaco da Gesù. Se volete patentare, adesso iniziamo un momento di inizio. Siamo! Ma fornita loro! Non si fa! Ma fornita loro! Non si fa! Ma fornita loro! Non si fa! Non si fa! Ma fornita loro! Ma fornita loro! Come fornita loro! Ma fornita loro!